buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti alla lettura per il segno del leone mi ricordo che è una lettura generica e quindi se non risuona con tutti potete guardare le letture del vostro segno ascendente oppure della vostra luna potete anche chiedere informazioni sui costi delle sessioni private inviando una email alla mia assistente oppure potete andare direttamente sul sito internet dove trovate tutte le informazioni e potete anche prenotare scegliendo dal calendario il giorno e l'ora che preferite ma andiamo subito a vedere che cosa accade nel mondo dei leone guarderemo prima le energie generali e poi passeremo più nello specifico a coppie e single e infine guarderemo l'oracolo angelico energia generale il carro molto bene il carro ci parla di crescita il carro ci parla di movimento evoluzione il carro è quella carta che esce quando siamo pronti ad andare avanti in un modo o nell'altro siamo pronti a fare anche un piccolo sforzo per andare avanti perché molti desiderano il cambiamento ma non sono disposti a fare uno sforzo per arrivare a questo cambiamento il che è assolutamente inutile quando invece esce la carta del carro sì siamo pronti al cambiamento e sì siamo anche disposti ad agire disposti a muoverci a mettere benzina nella macchina per la benzina costa però è un costo che comunque da poi dei risultati che sono appunto dovuti a sono appunto gli spostamenti che noi poi siamo in grado di fare con la macchina il carro infatti molte volte viene anche associato alla macchina all'automobile dal movimento ai viaggi ma adesso vediamo un po in che cosa consiste questa crescita e soprattutto in che modo stanno partecipando le due persone alla crescita in una colonna rivedrete voi stessi nell'altra colonna rivedrete o il vostro partner o la persona che in questo momento state frequentando o con la quale interagite o vorreste interagire quale colonna è la vostra quale invece quella del vostro partner lo capirete man mano che leggerò chi sta su questa colonna si sente come un 9 di coppe rovesciato sì un 9 di coppe rovesciato e ciò che prova per il proprio partner è una regina di bastoni vorrebbe il mago agisce come l'imperatore il suo segreto è l'otto di coppe allora questa è una persona che ha le idee chiare questa è una persona che è molto coerente fra ciò che dice e ciò che fa una persona che sa cosa prova per l'altro che sia il partner o che sia un conoscente o comunque qualcuno con cui vorrebbe qualcosa di più questa persona di certo sa quello che vuole e prova anche qualcosa di intenso prova qualcosa di molto forte perché una regina di bastoni è anche una persona molto passionale capace di esprimere il suo amore sotto tutti i punti di vista anche sotto il punto di vista della passione è una persona che si sente attratta dal proprio partner ed è una persona anche con questa carta del mago che è pronta veramente a lottare pronta ad agire pronta a lavorare sul piano materiale quindi a costruire materialmente qualcosa fare con dei gesti delle azioni concrete qualcosa che possa davvero essere utile e che possa servire a se stessi e all'altro in realtà in realtà ci sono delle incertezze con il nome di coppe rovesciato ci sono delle incertezze delle insicurezze perché questa è una persona che fuori è molto stabile apparentemente è molto stabile però è ovvio che ha le sue fragilità è ovvio che ha le sue insicurezze in profondità e magari ha anche una certa incapacità di esprimerle queste insicurezze magari perché non conviene perché non è il momento giusto quindi ecco sembra qualcuno disposto a fare fin troppo per l'altro ma davvero fin troppo in ad agire in modo eccessivo ad avere degli atteggiamenti eccessivi verso l'altro o verso la relazione o verso ciò che potrebbe esserci nel frattempo tiene anche un po tutto sotto controllo quindi c'è davvero c'è davvero una forte energia di c'è davvero un forte senso di gestione del tutto questa persona vuole tenere tutto sotto controllo vuole gestire tutto vuole assicurarsi che le cose funzionino non lascia al caso nessun dettaglio ma si prende cura di tutto appunto anche dei dettagli l'altra persona invece è un 8 di denari prova un cavaliere di bastoni rovesciato vorrebbe un 8 di bastoni rovesciato si comporta come un 6 di coppe non dice il 4 di coppe l'altra persona non è così diretta non è così diretta l'altra persona manifesta invece dei blocchi e sta pensando un po più a se stessa mentre questa persona è totalmente concentrata e focalizzata questa sta un po più pensando a se stessa per carità riconosce l'importanza del legame riconosce il il questo cordone energetico che che vi collega c'è la carta del 6 di coppe come i miei studenti sanno questa per me è la carta delle anime gemelle quindi è quella carta che parla di legami carmici parla di rapporti che vanno oltre il tempo e oltre lo spazio che siano poco o molto importanti non conta perché i rapporti di anime gemelle sono di vario tipo e ce ne sono ognuno di noi ne ha tante ne ha diverse nella vita e con ciascuna di queste fa un'esperienza diversa però ecco c'è questa sensazione da questo lato c'è questo senso di appartenersi su un altro piano dimensionale e nonostante il poco la poca azione e nonostante il poco interesse c'è comunque questo comportarsi di conseguenza quindi l'essere l'essere amichevoli l'essere affettuosi la verità però è che questa persona non è contentissima non è contentissima al cento per cento se stiamo parlando di coppie se stiamo parlando di coppie questo è un momento importante per la relazione perché appunto come vi dicevo un momento di crescita di evoluzione nella quale la relazione prende una direzione e poi si va insieme verso quella direzione uno dei due non è convinto al cento per cento uno dei due non è soddisfatto al cento per cento però in linea di massima è un modo per andare oltre ed è un modo per uscire da una condizione in cui qualcosa non andava c'è soprattutto con questo otto di coppie c'è proprio questo allontanarsi da quel qualcosa che non va e invece cercare di creare costruire insieme qualcosa di più efficace più funzionale uno dei due come vi dicevo non è soddisfatto al cento per cento però riconoscendo l'importanza che ricopre la relazione sembra comunque disposto a collaborare in un senso o nell'altro anche se le intenzioni magari non sono ottime in particolare per qualcuno di voi sempre mi riferisco alle coppie per qualcuno di voi c'è una delle due persone che sta rivolgendo le sue attenzioni anche al di fuori della coppia e che quindi sente come il bisogno di distrarsi sente il bisogno di guardare oltre di cercare qualcosa di più uno svago magari ecco qualcosa che stimoli di nuovo la passionalità e non necessariamente dentro la coppia perché vedo uno dei due molto attratto sessualmente l'altro invece un po più spento sembra invece più che abbia bisogno magari di cercare altro fuori non è per tutti così è solo per una piccola parte di chi di voi è in coppia però ecco c'è anche questa situazione in cui uno dei due si sta proprio rivolgendo al di fuori per quelli di voi invece che sono single ecco che chiaramente siamo di fronte a un innamorato e all'altro che si fa rincorrere e sono quei casi di relazioni karmiche di storie appunto di anime gemelle o anime compagne per cui uno dei due ha riconosciuto immediatamente il legame karmico uno dei due sa benissimo che desidera l'altro e sa benissimo che con l'altro c'è questo legame speciale e l'altro si sente il legame però magari lo vede più come che so una forma di amicizia una forma di una simpatia ecco non sente che non sente che questa sia la persona giusta per costruire qualcosa di più non non sente questa forte attrazione fisica che invece c'è da un lato quindi quello che va a mancare è proprio magari questo anche sempre per rimanere nell'ambito dei single per qualcuno di voi ma non per tutti uno dei due si sta rivolgendo ad altro uno dei due è poco interessato o comunque fa un po il doppio gioco perché nel frattempo magari si sta anche rivolgendo ad altre persone però ecco qui per quanto riguarda i single siamo proprio di fronte a una persona molto convinta che addirittura potrebbe anche avere chiuso da poco una relazione o potrebbe per esempio essere finalmente arrivata al punto in cui l'ultima relazione rimane nel passato quindi quel momento in cui si riesce un po ad andare avanti si riesce a dimenticare buttarsi alle spalle il passato e si è pronti per una nuova relazione e l'altro che invece sta un po ancora così così non è esattamente pronto adesso invece vorrei andare a farvi vedere che cosa accade fra il segno zodiacale del leone e tutti gli altri segni zodiacali quindi tutti i 12 segni dello zodiaco andremo a vedere una per una le connessioni e gli incroci energetici che si stanno creando all'interno dello zodiaco con il segno del leone questa è una parte per specifica per i single ma in realtà io consiglio sempre anche a chi è in coppia di guardare perché potreste comunque avere delle informazioni interessanti soprattutto se state magari interagendo con più persone in questo momento ecco che ovviamente da qui potete avere informazioni su diverse persone che stanno magari ruotando attorno alla vostra vita contemporaneamente quindi diamo un attimino un'altra mescolata e infine dopo questa andremo a vedere qual è invece il consiglio degli angeli per vivere al meglio questo momento e per affrontare al meglio qualunque situazione intanto ragazzi io vi ricordo che per avere una sessione privata oppure per conoscere meglio i programmi dei corsi o dei video corsi perché in realtà io non faccio corsi ormai non faccio quasi più i corsi privati e nemmeno in gruppo ma tranne per i professionalizzanti quindi il professionalizzante è l'unico corso che ancora faccio privatamente telefonicamente o con videochiamata invece tutti gli altri sono dei video corsi quindi si tratta di avere a disposizione in qualsiasi momento le lezioni poterle ascoltare e riascoltare tutte le volte che volete per tutta la vostra vita ma vediamo un po' dunque per i leone che hanno a che fare con l'ariete c'è una grande attrazione fisica tra questa persona si sente molto attratta da voi con il toro sta cercando delle scuse per incolbarvi o per litigare o per non rendersi disponibile o per non rendersi responsabile magari lo state facendo voi ecco uno dei due sta un po' cercando scuse se la sta rigirando con i gemelli con i gemelli la carta dice ragazzi non avete nessun motivo di cui preoccuparvi quindi mettete di lato le preoccupazioni con il cancro con il cancro invece il consiglio è quello di informarvi meglio avete bisogno di saperne di più prima di lanciarvi con il leone il leone con un altro leone sappiate che questa persona vi sta guardando da lontano e vi sta tenendo d'occhio con la vergine beh c'è reciprocità con la vergine con la bilancia persona molto chiusa ma la relazione è possibile se ci sarà un'apertura quindi è tutta una questione di volontà con lo scorpione uno dei due sembra avere perso la fiducia sagittario beh potrebbe con il sagittario potrebbe essere l'inizio di qualcosa di molto bello con il capricorno il capricorno sente la vostra mancanza ma comunque vuole andare oltre acquario sta per capire cosa vuole davvero pesci è ancora interessato o interessata e vuole andare avanti e adesso passiamo a vedere il consiglio degli angeli per questo mese per il segno del leone dunque la forza che è la carta del leone tra l'altro con l'arcangelo ariel quindi ecco che questa carta non fa altro che amplificare la vostra energia un'energia che voi già avete di base perché la carta della forza astrologicamente corrisponde al segno del leone ed è una carta che appunto descrive tutte le caratteristiche tipiche di questo segno zodiacale il leone è definito anche il cuore dello zodiaco perché ha un grande cuore ha veramente un grande cuore quando si apre quando questo cuore è aperto ma allo stesso tempo questa capacità d'amare è associata anche ad una grande forza interiore ha una grande capacità di essere dominante in senso buono in senso positivo o anche in senso negativo per chi non riesce a gestire bene le proprie emozioni però ecco che adesso in questo mese la carta sicuramente sta puntando il dito sulla nostra grande forza interiore ed è per questo che ci consiglia di liberarci dai giudizi perché giudicare non ci aiuta a trovare delle soluzioni giudicare non ci aiuta a risolvere conflitti non ci aiuta a essere persone migliori invece uscendo dal giudizio liberandoci dalle emozioni negative e guardando tutto con un certo distacco e con una certa accettazione quindi accettando gli altri per come sono davvero accettando ciò che gli altri manifestano di se stessi quindi senza pretendere che gli altri cambino per noi senza aspettarci che gli altri siano come noi desideriamo ecco che lì davvero riusciamo a raggiungere dei grandissimi risultati questa è una carta che parla di perdono nel caso in cui ci sia da perdonare qualcuno o noi stessi parla di compassione e la compassione va di pari passo con la comprensione e quindi è una carta che parla in realtà di unione 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 perché nel momento in cui noi usciamo dal giudizio e iniziamo a provare compassione per gli altri ecco che stiamo unendo noi stessi con gli altri stiamo diventando uno stiamo diventando una cosa sola forse a volte è difficile o comunque è difficile farlo con tutti però in certi momenti ci viene più semplice farlo con una persona alla volta ad ogni modo ragazzi io spero come sempre di esservi stata utile per una sessione privata vi ricordo che potete andare sul sito o inviare un'email e ci vediamo alla prossima ciao